Cari ragazzi, oggi andiamo a vedere un prodotto molto interessante, ci arriva da MyFox che anche questa volta ringraziamo dopo aver visto Umi Super, adesso parliamo del Cubot Cubot modello S550, quindi dispositivo davvero dal prezzo interessantissimo siamo al di sotto dei 150 euro, quindi attenzione a quello che ho detto perché ha caratteristiche tecniche molto molto importanti ed interessanti un bellissimo display ampio, una costruzione di vetro, un sensore biometrico posto nella parte retro quindi vedete, accessibilissimo, tranquillamente si può sbloccare il nostro dispositivo assomiglia tanto a un P9 Lite, ovviamente il P9 Lite è un'altra fascia di prezzo quindi intanto ragazzi facciamo partire la nostra sigla Andiamo dunque ragazzi a vedere cosa c'è nel box di vendita nella nostra confezione allora andiamo subito ad aprirla, ovviamente c'era il Cubot S550 poi troviamo qualcosa che non si trova in tantissimi telefoni, anche in quelli da più di 500 euro e passa allora abbiamo una back cover, una cover di protezione, cover che è in plastica rigida sentite anche il formato, una cover che ci permetterà di andare a chiaramente coprire da urti e cadute il nostro S550, vedete come si installa in maniera molto rapida e veloce ora qui mi è rimasto un pezzettino di cartone della nostra confezione poi mettiamo un attimino da parte troviamo una pellicola pre applicata, una pellicola in plastichina che ho levato subito perché se no il display insomma non si vedeva molto bene allora qui abbiamo un piccolo libretto, vedete Quick Start Guide che ci permette insomma una guida rapida ci permette di andare a visualizzare tutte le funzionalità in maniera molto rapida del nostro telefono poi guardate non da poco troviamo una pellicola in vetro temperato per il nostro display quindi già un regalo secondo me molto interessante sono più o meno 10 euro considerando anche la coverina poi altre due confezioncine in una troviamo il cavo di connettività USB, micro USB per andare a ricaricare e condividere i nostri file con il computer troviamo due pannettini, numero uno panettino umido per andare a ripulire il nostro display numero due panettino per andare ad asciugare qui c'era la spilletta che ho già rimosso per inserire una sim poi troviamo un caricabatterie non in formato rapido però vedete che abbiamo la presa italiana la batteria è da 3000 mAh vediamo dunque come è costruito questo Cubot S550 allora nella parte posteriore troviamo la fotocamera che è da 13 megapixel con il LED flash qui abbiamo detto il sensore biometrico per sbloccare il nostro dispositivo tramite l'impronta digitale qua abbiamo chiaramente la marca qui c'è lo speaker quindi l'uscita del volume parte inferiore con l'ingresso del jack da 3,5 mm il primo microfono poi troviamo nessun altro tipo di ingresso o uscita qua abbiamo l'ingresso delle due sim poi abbiamo qua il jack da 3,5 mm chiaramente abbiamo la possibilità di utilizzare il jack delle cuffie ma siamo in ambito nuovo iPhone quindi sapete bene come forse andrà a sparire il connettore per quanto riguarda il dispositivo di Apple avete sentito l'audio pauroso di questo Cubot S550 qua abbiamo anche l'ingresso della micro SD nella parte laterale frame perimetrale sinistro troviamo il tasto accensione e spingimento e troviamo anche il bilanciere del volume la fotocamera frontale è una fotocamera da 5 megapixel quindi è una fotocamera che ci permette di scattare buone foto selfie la posteriore è una 13 mega però diciamo una 13 mega via software quindi interpolata diciamo lo stand alla base sono 8 megapixel Cubot ha fatto un po' una scelta molto strana tre tasti soft touch a sfioramento qua nella parte frontale il nostro display è un display bellissimo da 5.5 pollici in qualità HD quindi non abbiamo il full HD ma abbiamo un display classico HD un display veramente potente guardate qua la definizione di questo display che pur essendo un HD su 5.5 pollici ricopre benissimo tutta la dimensione del suo display ma soprattutto cosa fa? non si vedono i pixel anche andandolo a avvicinare alla videocamera quindi ottimo davvero Cubot in questa scelta del pannello mi avevano già impressionato gli altri pannelli montati su vecchi Cubot e questo assolutamente è di livello allora Mediatek MT6735 1.3 GHz ormai gli standard eccoli qua questo Mediatek lo vediamo girare in tantissimi device funziona bene grazie anche ai 3 GB di memoria RAM a bordo fa girare davvero questo telefono in maniera direi molto molto buona scusate il display vedete qui dice 5 pollici quindi CPUZ fa un errorino sono 5.5 ve lo assicuro allora grazie alla RAM dicevo la 3 GB davvero il tutto gira molto bene la batteria 3000 mAh potete tranquillamente superare la giornata visto il display HD quindi non ho mai avuto nessun tipo di problemi ottima la connettività qui abbiamo tutte le bande supportate supportate compresa anche la famosa banda 20 non è ragazzi un camera phone ve lo dico subito perché allora se andiamo nella galleria ho scattato qualche sample qualche fotografia il rumore si vede tantissimo e spero nel video insomma si noti non è un camera phone assolutamente questo è un cellulare da proprio un primo Android se volete fare regalo al figlio figlio giovane che prende il primo telefono va assolutamente bene è un cellulare che ovviamente non può permettere una fotocamera come S7 come S7 Edge è una fotocamera da 120-110 euro se tappiamo in maniera prolungata il tasto centrale interagiamo con il nostro multitasking che si va a liberare i 3 GB di mona RAM se teniamo tappato il tasto a sinistra entriamo nel menu contestuale siamo in launcher 3 vedete un po' customizzato da Kubot niente ci vieta di cambiare totalmente il launcher abbiamo detto ottimo il segnale ottimo anche l'audio in capsula l'interlocutore ci sente molto bene questa non è una cosa da sottovalutare vi faccio anche sentire come l'audio sia veramente veramente potente forse anche troppo mai perso una notifica mai perso niente di niente perché va veramente da 10 avete sentito come sia molto molto forte questo audio incredibile davvero se andiamo nelle impostazioni vedete ormai siete abituati ragazzi vedete a vedere questo tipo di cellulare il menu contestuale è davvero molto ampio si può davvero interagire con tutto quanto settare per esempio un esperimento intelligente vedete con un doppio tocco si può andare a risvegliare c'è delle gesture interattive c'è la possibilità di settare l'impronta digitale fino a 10 impronte sono supportate e la versione di Android è la versione 5.1 che ormai sappiamo bene che su questi Mediatek che gira molto molto bene senza nessun tipo di intoppo e impuntamento se entriamo anche in un gioco io ho scaricato il mio classico NBA Live molto buona la giocabilità di questo di questo NBA di questo titolo vedete come i movimenti siano molto fluidi l'ho visto girare peggio sui dispositivi più blasonati ve lo assicuro non scalda un pelino qua ecco ma niente di che veramente ottimo ottimo questo Mediatek MT6735 sul Cubot 550 buona la navigazione ormai con Chrome ragazzi non c'è nessun tipo di problema insomma io vi metti il link in descrizione perché questo è davvero un dispositivo interessante magari con un nuovo launcher magari con un launcher dove la customizzazione regna sovrana potrebbe davvero fare a caso vostro vi ripeto un regalo un telefono da dare al padre da dare alla madre insomma persone che non hanno pretese ecco a livello di bench a livello di cellulare ecco in generale bello bello al tatto solido ecco questa nessun tipo di scricchioli nessun tipo di impuntamenti su un dispositivo da 120 euro davvero non me l'aspettavo link in descrizione ragazzi ringrazio ancora MyFox.com e noi ci sentiamo come di consueto ai prossimi video che avevo iscriviti al nostro canale Grazie a tutti.